Oggi vediamo la seconda parte della mia casa in Spagna, in particolare molti di voi mi avete chiesto ovviamente ma quanto hai pagato questa casa, soprattutto in che posizione è, perché ci hai detto che è in Spagna, vicino a Alicante, ma non ci hai dato poi così tanti dettagli. Ed è vero, diciamo che volutamente ho fatto un video introduttivo, come vi ho detto questa è una serie di video, e l'altra volta vi ho fatto vedere un po' quello che mi hanno promesso che sarebbe stata la casa. Ora, io ci tengo a precisare che questi video non sono per niente sponsorizzati da loro, anzi loro non sanno che li sto facendo, semplicemente per condividere con voi un passo comunque importante che sto facendo, e magari anche ricevere dei consigli da parte vostra. Quindi adesso andremo al computer e vi farò vedere insieme la posizione della casa, quindi dov'è, proprio di preciso, sul Google Maps, e poi vedremo tutti i vari costi che io ho, e quelli che ho pagato e quelli che mi restano da pagare. Se state fino ad ultimo, vi farò anche vedere lo stato attuale della costruzione dei lavori, quindi le mail che io ricevo periodicamente con le fotografie, così vediamo anche come stanno andando i lavori. Vi ho messo a schermo la cartina in cui si mostra la cittadina di Torrevieca. Adesso zoom un po' fuori e vedete più o meno dove ci troviamo. Siamo sotto Alicante, vedete Alicante è qua su, quindi un po' distante da Alicante, andando verso sud si trova Torrevieca. La mia casa in particolare sta in questa zona qua, nella zona dove si vede scritto Villa Malia Gruppo Insara, che è praticamente il costruttore. Quindi è una zona, diciamo, non super centrale, anzi è un po' distante dal centro cittadino di Torrevieca, quindi un po' più tranquilla. E come vedete c'è anche l'Aldi, che tra l'altro è un Aldi molto nuovo, proprio a 5 minuti a piedi dalla casa. Ma la cosa per me molto importante è, guardate, la distanza dalla spiaggia, praticamente sono 200 metri, quindi mi sembra un'ottima posizione. Bene, adesso andiamo alla parte più succosa, quindi andremo a parlare di soldi. Ecco qua, vi ho messo a schermo tutti i miei costi. Qui ragazzi veramente c'è tutto. Quindi, partiamo con l'avvocato. Io ho preso un avvocato, perché come vi ho detto ho comprato alla cieca, un po' non proprio alla cieca, diciamo ho comprato senza andare a vedere sul posto, ho comprato con un numero di informazioni che l'agente immobiliare mi ha dato. Quindi io per tutelarmi al massimo ho preso un avvocato. Avvocato il quale ho pagato 600 euro. È molto poco, ma era in convenzione con l'agenzia, quindi diciamo due terzi è pagato dall'agenzia e io mi pago solo 600 euro. Avevo l'opzione di scegliere se prendere questo avvocato qua con loro, oppure prendermene un altro, che mi sarebbe costato un po' di più. Io ho deciso di andare con questo avvocato qua. Ho bloccato l'appartamento, quindi all'inizio l'ho bloccato con questa cifra di 3.300 euro. Come vedete c'è anche la data. Io ho iniziato, come vedete, a pagare nel 2022 a giugno. Siamo nel 2024, quindi sto ancora aspettando la casa. Poi ho pagato la prima rata del 20% di 57.200 euro. E questa l'ho pagata praticamente subito dopo aver firmato. Poi abbiamo pagato la seconda rata, sempre 57.000 euro nel 2023, quindi l'anno scorso. Ovviamente queste rate, se comprate una casa nuova, c'è comunque tutta una specie di stato dei lavori e più i lavori avanzano, più potete pagare le rate. Io ho sempre trovato molto comodo questa cosa per le case nuove, perché ti dà la flessibilità di pagare delle cifre e poi mettere dei soldi da parte e ripagarle, senza prendere per forza un mutuo. Quindi è una cosa per me molto interessante, per questo anche ho comprato una casa nuova. Poi ho pagato quasi 2.200 euro di extra. Io di extra ho comprato, come avete visto dal video, e guardatevelo, ve lo lascio qui sotto, la casa a due camere da letto. E io ho comprato un letto matrimoniale e due singoli. Quindi letto con cuscini e materasso, ho comprato uno specchio per la cabina armadio intero, tutte le luci, quindi tutti i faretti. Mi sono anche fatto installare una presa esterna per la terrazza che c'è fuori sul giardino, così che ci puoi attaccare il computer, oppure ci puoi mettere un anti-zanzare, qualsiasi cosa, fa sempre comodo avere una presa della corrente esterna. Quindi più o meno queste sono le cose che ci ho fatto mettere in questi extra. Il resto, quando sarà pronta, comprerò tutto lì in loco. Poi, come vedete qua, quindi queste sono le cose che ho pagato, come vedete qua ci sono altre cose da pagare. Qui arriva la mazzata. Come vedete, io devo ancora pagare 168.300 euro. E questa è la mazzata che devo pagare appena i lavori concludono. Ma come vi ho detto anche nell'altro video, sono in ritardo già di 2-3 mesi, quindi qua la data non la so ancora quando è. Sto aspettando da loro. Quindi, in Spagna poi, se vi comprate una casa, avete una tassa chiamata AJD, dell'1,5%. Il notaio, che la cifra varia, ho ipotizzato 1000 euro, ma varia la cifra, quindi non ne sono sicuro. E delle pratiche, sempre per tutta la roba burocratica, quindi sono 2500-2600 euro. La casa, io l'ho pagata 260.000 euro, ok? Quindi, è una casa di oltre 100 metri quadri, incluso il giardino fuori. Due camere da letto, due bagni, una grande sala con cucina, vista con l'isola, posto auto incluso, sotterraneo. E poi c'è tutta l'area comunale, con piscine, piscina riscaldata, piscina per bambini, zona picnic, palestra, eccetera. Quindi, diciamo, sistema anche di domotica, quindi aria condizionata. Tutte queste cose le ho pagate 260.000 euro, casa completamente nuova di pacca. A piano terreno, quindi l'edificio ha una casa a pian terreno e una casa al piano di sopra con solarium. Io ho scelto il pian terreno perché le case per me in Spagna, soprattutto in queste zone qua, le ho preferite al pian terreno, magari sono più fresche. Quindi, diciamo, con 260.000 euro questo è quello che ho portato a casa. In più, quindi, con tutte le tasse e tutti gli extra che ho preso, mi viene 295.000 euro. Che è una bella cifra. Su questo ci devo comunque aggiungere, ovviamente, l'arredamento che ci devo mettere là. Io, ovviamente, lo sapete, ho l'obiettivo di affittarla. Sto ancora valutando se rivenderla immediatamente. È una cosa che al momento sto veramente valutando per via del discorso di trasferirmi a Milano, come sapete. Quindi sto un attimo vedendo. Però, diciamo, l'obiettivo originario era quello di affittarla e rimane un'opzione concreta. Quindi, per concludere questo video, adesso vi ho messo a schermo le foto che mi hanno mandato all'ultimo update a febbraio 2024. Come vedete, questa è la fase 2, cioè la mia fase. E qua si vede che a febbraio stavano iniziando a lavorare alla piscina. Mentre le costruzioni dietro sembrano veramente quasi pronte, almeno esteticamente. Ci sono alcune foto della fase 1. Come vedete, questa fase qua, vedete com'è già finita anche con le piscine. Più o meno la fase 2 sarà simile. Qua ovviamente hanno messo una barriera, ma quando sarà tutto finito, si può camminare benissimo tra fase 1, fase 2 e fase 3. Quindi sarà una specie di rettangolo con un sacco di piscine e zone comuni in cui si può comodamente passeggiare. Bene amici, fatemi sapere quello che pensate, se secondo voi queste cifre sono assurde. Voglio anche un consiglio da parte vostra. Secondo voi quanto potrei spendere per acquistare tutta la parte di mobili? Io non ho molta esperienza nell'acquisto di mobili per case, per affitto di vacanze. La mia idea è quella di cercare di mettere dei mobili comunque non di qualità elevata, proprio perché se deve essere affittata magari, diciamo, è possibile che verranno comunque rovinati e non vorrei spenderci poi più di tanto su quelle cose. Comunque fatemi sapere se avete delle esperienze qui sotto. Io vi aspetto al prossimo video sulla mia casa in Spagna insieme, sperando che arrivi l'annuncio che la casa è pronta e quindi possiamo andare insieme a visitarla. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!